Ok ragazzi, quando un podcast come Breaking Italy esordisce con un titolo del tipo studenti manganellati ma anche basta e lo stesso presentatore shy afferma di essere preoccupato dalla deriva autoritaria che sta prendendo il nostro paese, che cosa potrà mai andare storto? Shai nell'ultima puntata di Breaking Italy lascia intendere che in Italia stia diventando sempre più difficile criticare il potere. Cambiano anche nel nostro paese rispetto a ciò che si può fare e ciò che apparentemente non si può più fare. Tipo criticare, non quello, sempre meno, sempre meno. Shai è poi convinto che gli studenti a Pisa siano stati caricati senza alcun motivo, ritiene questo evento assolutamente inspiegabile e afferma poi infatti che questo evento è talmente inspiegabile e preoccupante che perfino il capo dello Stato è intervenuto. Ora, se è indubitabilmente vero che questa è la prima volta in cui il capo dello Stato interviene profferendo delle frasi che sembrano prese di peso dai biscotti della Fortuno di Baci Perugina, cose del tipo il manganello è una sconfitta per tutta la società, non è altrettanto vero che questa sia la prima volta in cui degli studenti vengono caricati dalle forze dell'ordine. È successo per esempio a Palermo nel 2014 e anche nel gennaio del 2022 le cose non sono andate molto diversamente. E guarda caso in queste due circostanze non c'erano certamente dei governi di centrodestra al comando. Nel 2014 c'era infatti il governo di Renzi mentre nel 2022 c'era il campo largo, larghissimo con tutti i partiti al potere tranne guarda caso proprio Fratelli d'Italia. In queste circostanze non ricordo di aver sentito lamentele, interrogazioni e annunci apocalittici da parte del PD, dello stesso Breaking Italy che forse nel 2014 non aveva ancora iniziato la sua attività, oppure ancora da parte di altri giornalisti. Sono cose che capitano. Il problema è che quando queste cose capitano con un governo di centrodestra ci si spaventa di più, perché diciamocelo per default quelli di destra sono quelli più cattivi e meno permissivi. E la cosa divertente è che questa convinzione è tanto diffusa quanto fallace. Vi stupirà a prenderlo, ma in realtà 99 volte su 100 quello che avviene sul campo è perfettamente indipendente dalla guida politica del governo. Ragazzi pensateci un attimo, secondo voi i poliziotti che sono schierati a protezione di una piazza e che ricevono banalmente l'ordine di non far passare dei manifestanti perché potrebbero esserci problemi di ordine pubblico. Gestiscono la situazione sulla base del governo, del partito al governo, oppure devono gestirla sulla base di quello che accade intorno a loro. Insomma, un poliziotto della celere o comunque intenuta antisommossa, che viene movimentato 10, 20, 30 minuti prima perché manca per esempio il preavviso della manifestazione. Quando si trova sotto pressione, spintonato dai soliti tizi dei servizi sociali, si domanda se il primo ministro è Conte, la Schlein o la Meloni, oppure cerca di fare il suo lavoro. E mentre eventualmente cercate la risposta a questa domanda, che sono abbastanza sicuro che non vi siate mai posti, avvalendovi altrettanto eventualmente dell'aiuto da casa, continuiamo a vedere e a seguire il discorso di Schlein. Io ho delle cose da dire in merito, sono arrabbiato, ma soprattutto sono un po' preoccupato. Sincero, fuori dalle battute, sono un po' preoccupato. Essere arrabbiati e preoccupati è normale e diciamocelo, ti rende più umano, non necessariamente più professionale. Quando analizzi situazioni complesse, spesso e volentieri è più utile essere professionali che umani, a meno che naturalmente tu non debba totalizzare un certo numero di click. In questo caso ti suggerisco di seguire la corrente e dire ai tuoi spettatori esattamente quello che vogliono sentirsi dire. ...danno confronti, se non con giornalisti e amici. La sinistra viene sempre descritta come un mondo alieno, pazzo, fatto di rosiconi, menagrammi. Sì, insomma, sinistra e destra sono descritte in modo perfettamente intercambiabile. ...parlato di come, in appena un anno, fosse divenuto vietato criticarlo. Farlo significava essere attaccati direttamente, tirati dentro il fango della sua feroce macchina social. Addirittura, un certo punto si era iniziato a far entrare la polizia nelle case per far rimuovere gli striscioni appesi ai balconi che si affacciavano sulle strade in cui l'ex ministro dell'interno sarebbe passato. Anche in questo caso, Shai sta attribuendo un significato politico a un comportamento che le forze dell'ordine tengono per un fine completamente diverso e decisamente più banale, quale per l'appunto mantenere l'ordine ed evitare tensioni fra i manifestanti. È vero, verissimo, che dei poliziotti o dei carabinieri sono andati a bussare a delle abitazioni private per fare in modo che degli striscioni contro Salvini venissero rimossi. Ma è altrettanto vero che qualche giorno fa sono andati a fare la stessa cosa per fare in modo che un ragazzo rimuovesse un cartello con scritto Free Palestine from Hamas. Ora, non è che in questo secondo caso le forze dell'ordine tifano per gli amassoni. Molto banalmente hanno considerato l'esposizione di un cartello di quel tipo rischioso per la pubblica sicurezza e per la persona che lo teneva in mano e quindi sono andati a bussare alla sua porta chiedendogli cortesemente di rimuoverlo. Ripeto per l'ennesima volta, io lo so che Shai ha una certa forma mentis, così come ce l'ho anch'io, ma i poliziotti non vedono il mondo esattamente come lo vediamo noi. I poliziotti, quando sono in servizio al pari dei carabinieri, peraltro, ragionano in termini di sicurezza e di minacce. Se c'è qualcosa che può aggravare la situazione e creare tensione, cercano di eliminarla in modo tale da mantenere l'ordine pubblico. Può essere una cosa simpatica o antipatica, ma il loro scopo non è quello di favorire una parte politica, è quello di fare in modo che la folla resti più tranquilla possibile. Il potere non accetta invece che qualcuno gli dia fastidio, che una parte di quell'apparato, cioè le forze dell'ordine, che per loro natura sono conservatrici e quello fanno, tentano di limitare il più possibile quel caos che sono chiamati a governare, ma che è poi il cuore della democrazia. Cioè il caos sarebbe il cuore della democrazia? Seriamente? Shai, tu non sei mai stato bambino? Non hai mai visto dei cartoni animati come per esempio He-Man e i dominatori dell'universo? Non ricordi che le forze del caos erano guidate da Skeletor e che quest'ultimo utilizzava principalmente l'inganno e la violenza per raggiungere i suoi scopi? Mentre viceversa le forze democratiche erano quelle dell'ordine rappresentate da He-Man? Oh cielo, ucciderei per avere la metà dei suoi capelli! La democrazia non ha nulla a che vedere con un tizio dei centri sociali che decide di spintonare un poliziotto e spinge direttamente o indirettamente i studenti a superare un posto di blocco. La democrazia non è questo. La democrazia è la possibilità di esprimersi civilmente, di far sapere a tutti la propria opinione e, mediante l'applicazione di alcune regole, tipo quelle elettorali, portare al potere i propri rappresentanti. Riassumendo, nel caso dei cortei delle manifestazioni, non è democrazia prendere a calci gli agenti e non è dittatura respingere la folla che ti sta pressando sui cancelli per andare a vandalizzare la sede della Rai. A parte questo, Shai poi ci spiega che è preoccupato per la piega che stanno prendendo le cose perché dal suo punto di vista le forze dell'ordine hanno fatto una cosa brutta e cattiva nei confronti di un parlamentare slash politico slash attivista. Vediamolo insieme. I giorni fa, ad esempio, Riccardo Maggi, parlamentare di più Europa... Ok, se questo politico è un radicale sappiamo già dove andrà a parare. È stato raggiunto, gli è stato impedito di impugnare un cartello per strada con sopra un riferimento a una decisione tedesca sulla legalizzazione della cannabis. Ora, nel cartello che tiene in mano il parlamentare slash politico, io leggo qualcosa del tipo io coltivo e dato che in Italia la coltivazione di cannabis è illegale, non c'è da stupirsi se il pubblico ufficiale ti toglie il cartello e ti identifica. Infatti, con una comunicazione strutturata così, c'è il rischio che qualcun altro, leggendo quel cartello, si convinca che la coltivazione di cannabis in realtà sia legale, sia un comportamento lecito e che quindi possa questa persona, influenzata da te e dal tuo cartello, iniziare a coltivare questa pianta sul suo balcone o nel suo giardinetto di casa, consumando così, oltre alla pianta, un reato. Ora, io sono convintissimo che l'intenzione del parlamentare non fosse questa, ma tuttavia devi ancora una volta metterti nei panni degli agenti. Secondo gli agenti, un comportamento simile potrebbe integrare gli estremi dell'articolo 414 del nostro codice penale e cioè potrebbe integrare gli estremi dell'istigazione a commettere un illecito. E naturalmente, quando degli agenti di pubblica sicurezza o addirittura degli ufficiali di polizia giudiziaria vedono qualcuno che sta commettendo un illecito, hanno il preciso dovere di interrompere quel tipo di condotta. Poi, naturalmente, stiamo parlando di ufficiali o di agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria, per cui nessuno esce condannato semplicemente perché ti fermano o ti tolgono un cartello. Al massimo, poi, il PM, una volta informato di quello che è successo, deciderà di non procedere nei tuoi confronti o, viceversa, deciderà di appoggiare la condotta degli agenti e ti farà chiamare nella stazione dei carabinieri al commissariato per ritirare qualcosa che assomiglia all'elezione di domicilio e all'avviso di garanzia. Però, ripeto, questa è procedura. Se i pubblici ufficiali e in particolar modo gli agenti vedono una condotta che, dal loro punto di vista, può assomigliare a un reato, hanno il dovere di interrompere quella condotta. Non c'è nulla di strano nel loro lavoro. Lavoro che, come ripeto, è soggetto a ulteriori controlli e verifiche, tanto da parte del pubblico ministero e della Procura della Repubblica quanto dai loro superiori gerarchici. Poi, a difesa degli agenti, bisogna anche dire una cosa. Se tu vai in giro a dire, ehi ragazzi, guardate che c'è una bellissima sentenza di un tribunale o della Corte Suprema tedesca che dice che coltivare marijuana non è reato, lo possiamo fare tutti, stai di fatto spingendo altra gente a tenere un comportamento che in Italia è vietato. Perché in Italia non hai delle sentenze che stabiliscono la stessa regola e non c'è alcuna garanzia che la Corte di Cassazione italiana prenda una decisione simile, se non identica, a quella della Corte Suprema tedesca. Un tempo, quando si volevano portare avanti iniziative spettacolari, era normalmente il parlamentare o il politico radicale che violava volontariamente la legge e poi, grazie a uno o due avvocati di fiducia, andava a sfidare il sistema, facendo rilevare, per esempio, l'incostituzionalità della legge. Questa, invece, è una cosa un pochino diversa che corre il rischio di coinvolgere anche della gente comune. Però, ripeto, non voglio scendere nei dettagli politici. Il punto è che qui, semplicemente, ci sono degli agenti che hanno visto qualcosa che assomigliava a una condotta criminosa e l'hanno stoppata. Poi, naturalmente, te lo ripeto per la seconda volta, siamo in democrazia, in uno stato di diritto e ci sono ulteriori controlli sulla condotta di questi agenti. A parte questo, per rendersi conto di quanto sia infondato il rischio di abuso in questo caso. Shai, prova a immaginarti un caso leggermente diverso. Il parlamentare in oggetto, invece di tenere un cartello con scritto sopra io coltivo, se ne esce con un cartello del tipo io faccio cose brutte e cattive ai bambini perché nello stato del birbundi, che ovviamente ho inventato al momento, ma da qualche parte certamente esiste uno stato così, è perfettamente legale fare queste cose qui. Te la saresti presa a cuore nella stessa misura? Io, francamente, credo di no. Per il resto, Shai, il tuo Breaking Italy ricostruite benissimo quanto è accaduto poco prima delle mancanellate. Intendo dire, era una giornata di sciopero e qualcuno ha indetto delle manifestazioni, ma questo qualcuno, che non vorrei essere qualcuno dei centri sociali, potrebbe essersi dimenticato di avvisare la Questura e il Comune circa il fatto che quel giorno si sarebbe tenuto una manifestazione e quindi non è stato permesso alle forze dell'ordine di organizzarsi come sarebbe stato opportuno. Sotto quest'ottica non è così strano che gli studenti si siano trovati all'interno di una via bloccata sia da una parte sia dall'altra. Ora, quando si verifica una situazione del genere, normalmente con le forze dell'ordine ci parli, non cerchi di forzare il blocco. Ma qui, contrariamente a quello che hai mostrato, anche perché, detto fra parentesi, quello che hai mostrato tu è il primo video che è circolato. Ce ne sono altri che sono emersi dopo. Quindi, a mio modesto parere, quando hai fatto il montaggio, tu non avevi neanche gli video che sono usciti dopo. Avevi solo quello e quel video è tagliato. Vedi soltanto la carica di alleggerimento della polizia. Non vedi nulla di quello che ha preceduto questa carica. Per farla breve, nel video che ho visionato io, si vede chiaramente qualcuno, che secondo me appartiene ai centri sociali, fare il grosso e andare a spintonare i poliziotti. Gli studenti, invece di restare indietro, hanno alzato le mani e hanno provato a forzare il blocco. Il punto è che gli agenti avevano il compito di mantenere la posizione. Per cui, se ti trovi qualcuno dei centri sociali che fa il duro, gli agenti che si ritrovano spalle contro la camionetta e devono mantenere la posizione, cosa ti aspetti che succeda? Non è che la sicurezza della città sia un optional e ogni singolo agente decide se eseguire gli ordini dati dal questore, dal prefetto, non so, dal commissario, oppure andarsi a prendere un bel caffè. Non funziona così l'amministrazione pubblica e soprattutto non funziona così l'amministrazione della pubblica sicurezza. Perché, Shai, tu la fai veloce e semplice, ok? Ma mettiamo il caso che quegli agenti avessero violato le disposizioni dati dal questore. I manifestanti arrivano in piazza, occupano la normale, fanno magari qualche danno, feriscono qualcuno. Chi si assume la responsabilità di quello che succede? Te l'assumi tu? Non credo. E nel caso in cui qualcun altro se lo stesse chiedendo, perché Shai e la sua squadra chiaramente non l'hanno fatto, no, non è neanche responsabilità del questore? Perché normalmente in tutte le città, e non ho motivo di ritenere che Pisa fosse un'eccezione, si decide prima quali sono i punti sensibili della città che vanno protetti. Non è che il questore o il prefetto si svegliano la mattina e dicono qui i manifestanti non ci possono entrare. Esiste un elenco di obiettivi e punti sensibili dove è preferibile che le manifestazioni non si tengano. Poi Shai resta scandalizzato dal fatto che questa vicenda abbia coinvolto dei minorenni, dei ragazzini. E per carità, se vuoi scandalizzarti, fallo, liberissimo, ma tieni presente che esistono regole che vanno rispettate anche dai ragazzini. Intendo dire, sono anche minorenni quei 7-8 che hanno fatto cose brutte e cattive a una ragazza in Sicilia. Non è che in quel caso dici, ehi, sono minorenni, sì, sono ragazzi, hanno sbagliato. No, li punisci esattamente come prevede la legge. In secondo luogo, se vieni a dirmi che sono ragazzini lasciando intendere implicitamente che non sono in grado di gestirsi in maniera autonoma e matura, non li dovresti lasciare soli. Non dovresti lasciare che vengano condotti chissà dove e con quali metodi da dei tizi dei centri sociali. Dove erano i genitori di questi ragazzini minorenni? Dove erano i professori di questi ragazzini e minorenni? Si stavano prendendo un caffè? Avevano deciso di prendersi la giornata libera perché i minorenni sono fuori a manifestare e quindi giornata di festa extra? Perché alla fine di questo stiamo parlando. Se tu ritieni che i minorenni siano incapaci di intendere di volere proprio perché minorenni, non li devi lasciare da soli. Ci deve essere qualche adulto che si assume la responsabilità di quello che fanno. Io sinceramente in questo corteo non ho visto adulti responsabili. Ho visto un tizio che credo incappucciato con una bandiera dei servizi sociali che andava a fare il grosso spintonando un ispettore e facendo in modo che gli altri spingessero i poliziotti. Poi siamo d'accordo, probabilmente non avevano intendizioni ostili ma volevano forzare un blocco e i blocchi non si forzano. Invece Shai, una cosa che proprio non mi è piaciuta della tua puntata di Breaking Italy è quella in base alla quale i poliziotti hanno subito? Spinte, pressioni, sputi, parolacce e tu invece di dire che non si devono spintonare i poliziotti e forzare i posti di blocco perché anche i poliziotti sono esseri umani e non li puoi spingere contro le camionette e metterli letteralmente o figurativamente spalle al muro, ti sei soffermato sul fatto che abbiano ricevuto soltanto sputi e parolacce, forse sulle parolacce hai anche sorvolato, dicendo ehi non si può mica reagire a sputi e parolacce a manganellate. Sì è vero e infatti gli sputi e le manganellate i poliziotti spesso e volentieri li tollerano anche se francamente io non sarei altrettanto professionale ma io sono io, loro sono pubblici ufficiali, loro tra l'altro se violano le regole perdono lo stipendio, io al massimo passo qualche giornata in tribunale, privilegio del ruolo, ma battute a parte tu hai ridotto il tutto come se questi poliziotti avessero perso la pazienza e avessero colto l'occasione per sfogarsi, non è così. Quei poliziotti hanno mantenuto la posizione e hanno fatto il loro lovere di fronte a qualcuno che ha provato a forzare il blocco. È una cosa completamente diversa e trovo che la tua sia una mancanza di rispetto nei confronti degli agenti. Non solo, il tuo modo di presentare la cosa e cioè come un abuso delle forze dell'ordine potrebbe anche convincere qualcuno che i poliziotti sono brutti e cattivi e che quindi vanno menati perché per l'appunto sono i primi a violare la legge, sono una minaccia per il caos portatore della democrazia. Ora naturalmente io non voglio assolutamente dire che sia così e anche perché non sei stato l'unico a sostenere queste cose, anzi temo che purtroppo l'attacco alle forze di polizia sia stato relativamente generalizzato, ma dopo qualche giorno effettivamente c'è stato qualcuno dei centri sociali che ha colto l'occasione per aggredire una pattuglia di poliziotti. Ok? Ora magari quell'aggressione si sarebbe verificata lo stesso perché i ragazzacci dei centri sociali bene o male li conosciamo tutti, anche Salvini è stato uno di loro, quindi sappiamo con chi abbiamo a che fare. Ok? Dopo questa battuta mi troverò contro sia i lighisti sia i tizi dei centri sociali. Pessimo. Ma in ogni caso se tu affermi che la polizia sbaglia sempre e comunque e non metti le cose nella giusta prospettiva, non è che tu sia obbligato, se sei un privato cittadino puoi fare quello che vuoi. Sotto profilo etico e morale però poi non stupirti se c'è qualche testa calda che ti prende fin troppo sul serio e poi va a menare i poliziotti. Ok? E voi che cosa ne dite? Quando si parla di questioni relative alla pubblica sicurezza dobbiamo affrontare l'argomento principalmente sotto il profilo politico oppure sotto quello strettamente tecnico. Come sempre fatemelo sapere lasciando scritto qualcosa qui sotto. Se poi vi piacciono i miei video, come sempre, ricordatevi di diventare un Patreon se volete potete o in alternativa iscrivetevi, attivate la campanella, condividete il link al video sui social che usate più spesso e naturalmente lasciate un mi piace grande e grosso. Inoltre, se non farete tutto questo in un futuro alternativo, remoto e decisamente improbabile, potreste ritrovarvi ad abitare a Firenze vicino al consolato americano. Io vi ho avvisati, poi fate voi. Come sempre grazie di tutto per tutto e a presto.